Presentazione nella serata di sabato per il Rapino Maiella, società che si prepara ad affrontare il secondo anno consecutivo in promozione dopo aver stupito positivamente nell'annata che si è appena conclusa, arrivando addirittura alla finale dei play-off del Girone. Un'annata che sarà tutta da conoscere, tutta da vivere. Lasciamo spazio chiaramente alle interviste dei protagonisti. Quest'anno ovviamente ripartiamo con un cambiato di promozione, dopo aver fatto più che bene lo scorso anno, perché comunque abbiamo avuto un grosso esploi andando a fare la finale dei play-off e quindi sicuramente le aspettative da parte degli addetti ai lavori sono molto alte. Noi dal canto nostro cerchiamo sempre di avere un profilo abbastanza basso, di rimanere sempre ben consci che è un cambiato difficile. Quest'anno lo sarà ancora di più perché ci saranno oltretutto 18 squadre, quindi diventerà una sorta di promozione più. Riconfermarsi non è sicuramente facile, però vogliamo sicuramente ben figurare. Abbiamo cercato di allestire un organico rinforzandoci più o meno con una pedina per reparte e soprattutto confermando lo zoccolo duro che è stato quello dello scorso anno. Il mio compito più difficile è stato quest'anno, grazie a Dio lo zoccolo duro è stato riconfermato, sono arrivati i nuovi ragazzi che sicuramente ci daranno una grossa mano. Adesso sarà il campo che ci dirà chi siamo, però siamo ben consci di avere un ottimo organico, anche se come dicevo prima è difficile riconfermarsi, anche in virtù del fatto che in tanti ci hanno conosciuto, ci hanno apprezzato e quindi sicuramente sarà un'impresa ancora più ardua, ma ce la metteremo tutta per cercare di ben figurare anche quest'anno in un campionato che per noi e per questo comprensorio è importantissimo perché qui una promozione prima dell'anno scorso non c'era mai stata. La nostra presentazione è un bellissimo evento perché post fusione con il Maiella Calcio, noi del Rapino Calcio, che adesso siamo Rapino Maiella, finalmente presentiamo alle persone del paese di Rapina e di Guardiarele la nostra grande società sportiva perché si è allargata tantissimo, non solo i ragazzi della prima squadra che parteciperanno al campionato di promozione, avremo le ragazze dell'eccellenza femminile per il secondo anno che parteciperanno a questo campionato, poi ci saranno i ragazzi del settore giovanile, giovanissimi allievi, tutti mister, quindi sarà una grande festa, tantissime persone, siamo molto contenti di essere arrivati a questo traguardo che per noi adesso, da quest'anno, è il nuovo punto di partenza per migliorarci ancora di più come società sportiva, siamo già al lavoro con i nuovi obiettivi già per il prossimo anno, quindi ne vedremo delle belle. Siamo quasi pronti per la partenza del nuovo campionato, sarà sicuramente un campionato difficilissimo, come l'ho stato lo scorso anno, chiaramente ho detto ai ragazzi che il campionato dello scorso anno lo dobbiamo un attimino abbandonare e pensare a quello che sarà perché è quello che conta, sarà difficilissimo come sempre, fare meglio non lo so perché fare meglio significherebbe quasi vincere il campionato e quindi mi auguro che i ragazzi siano pronti su ogni situazione, ogni domenica per dare il massimo come hanno sempre fatto. Poi vorrei ringraziare il Maiella Calcio perché c'è stata questa fusione che porterà tante cose buone per Rapino, anche per il Maiella che con tutto il lavoro che hanno fatto spero che i ragazzi avranno così più spazio nella prima squadra e di onorare ogni volta l'annata che faranno. La squadra diciamo che l'ossatura è rimasta quella dello scorso anno che abbiamo fatto molto bene, sono arrivati dei ragazzi molto molto bravi che ci daranno sicuramente una mano per cercare di non dico ripetere il campionato dello scorso anno ma per fare un campionato divertente. Questo è il primo anno in questa fantastica squadra, l'anno scorso purtroppo per un problema al ginocchio ho subito un infortunio quindi purtroppo non ho potuto partecipare con loro al campionato, però vedendo com'è andata spero che quest'anno possiamo fare anche di meglio perché vedendo i ragazzi con cui gioco sono veramente tutti bravissimi e altissimo livello.